Di noi abbiamo raggiunto dei risultati veramente notevolissimi. Lei pensa che nella scuola siamo al 94,4% di prima dose e al 91,5% di seconda dose. Come avete visto io ho richiesto tra l'altro che dopo gli ottantenni siano ancora una volta gli insegnanti nella priorità assoluta. I ragazzi hanno risposto molto bene. Siamo in media al 70%, con i ragazzi fra i 16 e i 19 anni addirittura al 84%. La risposta è esattamente alla sua domanda, i vaccini contano. Sì, sì, come l'ho detto il generale Figliolo mi ha garantito che dopo gli ottantenni, cioè quelli più fragili, tutti gli insegnanti saranno assolutamente in priorità. Oggi noi pensiamo, e lo dico chiaramente, che sia giunto il momento di consentire liberamente la terza vaccinazione, la terza dose a tutti i cittadini man mano che la scadenza avverrà. Se stiamo facendo la terza dose ai sanitari, evidentemente non ci sono ragioni di salute che rendono rischiosa la terza dose, perché altrimenti non potremmo farla neanche ai sanitari. Quindi credo che sia giunto il momento di iniziare la terza dose nei confronti di tutti i cittadini. Quest'estate ha avuto gli alberghi strapieni e gli ospedali vuoti, le aziende stanno lavorando. Questa è una competitività dell'Italia molto importante grazie agli altissimi livelli di vaccinazione. Addirittura la città di Bari è la città più vaccinata d'Europa. Abbiamo gli ospedali completamente vuoti grazie all'impegno della AS di Bari, della Regione Puglia e di tutti i sanitari e anche di tutti i cittadini che si sono vaccinati, avendo fiducia nel vaccino e, se mi permettete, anche nelle istituzioni.